Ci fa molto piacere realizzare la cravatta per il Giro d'Italia 2020, nel 2019 è stata una gran bella esperienza che ci ha portato grande soddisfazione. Nel 2020 le due le cravate saranno due, fondo blei e trami, con l'aggiunta di un reggimental sulla parte principale della cravatta, invece sul fondo della cravatta a sinistra una variante avrà il logo del Giro d'Italia, l'altro ci sarà la coppa. È un piacere di affiancarsi a delle eccellenze nazionali, per noi il Giro d'Italia è una bandiera nazionale del mondo, un'eccellenza italiana e quindi ben ci riconosciamo e ci fa piacere affiancarci a dei brand e un po' alla storia d'Italia. Non posso chiaramente nascondere il dispiacere che non passi per la campagna, però purtroppo non sono scelte che mi appartengono. Per il momento godiamoci la cravatta in campagna. Cravatta, tinta unita, fondo blei, realizzata interamente a mano, sette pieghe, che è un po'